Buonasera a tutti e bentornati al TG di AC Milan Inside. Nuovo assalto arabo per quanto riguarda il nostro Ben Nasser. Per lui sarebbe pronta un'offerta di circa 50 milioni, valore pari alla sua clausola. Ballotore è tornato a Milanello ma il giocatore non rientra nei piani del Milan. Si sta infatti cercando di vendere il terzino sinistro a titolo definitivo e due club, esattamente uno inglese e uno francese, avrebbero chiesto informazioni. Anche Colombo sarebbe rientrato dal prestito, però Verona e Venezia sarebbero interessati a lui. I rossoneri inoltre sono concentrati sulla cessione di Origi, tornato anche lui dal prestito. L'obiettivo infatti sarebbe quello di cedere il giocatore e avere così un risparmio di 10 milioni su un possibile arrivo di Lukaku. Queste sono tutte quante le notizie di oggi e io come al solito vi invito ad andare a seguirci su tutti quanti i nostri social targati AC Milan Inside.